Parlare di House Music, ballare l'House Music, amare l'House Music e non conoscere Soul Recordings è impossibile. Ha iniziato nel 1980 a incontrare l'House Music, prima con la Death Mix Records e dopo con Soul Recordings. Lui viene dal Giappone ed è uno dei migliori DJ esponenti dell'House Music internazionale. Questa notte ospite a discontinuo arenile Satoshi Tommi. Come on baby, let's go! Go, go, go! Go, spin, go! Go, go, go! Go, spin, go! Go, go, go! Go, spin, go! Go, spin, go, go! Go, spin, go! Cosa bravi e critico? Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.